Un minuto con Padre Pio per raccontarvi la sua storia, anche attraverso delle testimonianze, dei racconti di tanti che hanno scritto su di lui, in questo corridoio, il corridoio della clausura del convento di San Giovanni Rotondo, per raccontarvi anche la sua spiritualità. Quante foto abbiamo negli archivi di Padre Pio da Pietrelcina, quanti video, anche se sono di un numero inferiore rispetto alle tante fotografie. E la presenza di un fotografo, dobbiamo anche dire questo, infastidiva molto Padre Pio. Lo faceva quasi chiudere a riccio, non di rado, abbiamo visto anche in alcuni filmati, come lui detestava quasi la telecamera o la macchina fotografica, ma soprattutto perché davano fastidio e li vedeva spesso che in ogni angolo del convento scattavano foto per rubare la sua vita privata. Però potremmo anche dire questo, noi grazie a questi scatti, grazie a questi video, potremmo anche scrivere la vita di Padre Pio soltanto attraverso queste immagini. Padre Guglielmo Alimonti che ci racconta un bellissimo episodio, proprio in questo corridoio. Che cosa successe? Nei diversi periodi in cui giungeva qui a San Giovanni Rotondo e aveva l'opportunità di poterlo accompagnare nel coro, nella chiesa. Padre Guglielmo, sorreggendo il braccio di Padre Pio, aveva già chiesto in anticipo ad un prete francese che era in questo corridoio, di scattargli una foto al momento del passaggio con Padre Pio, proprio perché voleva un ricordo di questo momento. Il prete gli disse di sì, ma tu chiedigli il permesso, disse il prete a Padre Guglielmo, chiedigli il permesso anche con la mente, in quel momento che io sto per scattare la fotografia, altrimenti Padre Pio mi sgrida. Quando arrivò il momento del passaggio, il sacerdote stava in ginocchio come pietrificato e non riusciva in quel momento a scattare la fotografia. Al passaggio Padre Pio con Padre Guglielmo si fermarono, stettero per qualche istante fermi come se aspettassero questa fotografia e poi sorgnone Padre Pio rivolgendosi verso Padre Guglielmo gli disse, Padre Guglielmo ti devi rassegnare, la fotografia non si fa.